Non ci sono movimenti proibiti dopo un intervento per un tumore al seno, anzi noi spingiamo ogni donna a riprendere una vita normale sin da subito anche facendo i movimenti abituali, come ad esempio prendere in braccio il proprio bimbo piccolo, fare attività fisica e lavorare. Tuttavia nella prima settimana dopo l'operazione è meglio evitare sforzi intensi, anche per guidare bisogna aspettare qualche giorno, avere rimosso i drenaggi e sentirsi in grado di farlo potendo fare dei movimenti fluidi per non creare pericolo a se stesse e agli altri. Diciamo che pur rimanendo una questione puramente individuale, entro 7-15 giorni dall'intervento la quotidianità ritorna sostanzialmente nella norma dopo una chirurgia conservativa, invece nel caso di un intervento di mastectomia sono generalmente necessari circa 30 giorni. Grazie per la visione!